Il difensore civico regionale tutela i diritti e gli interessi dei cittadini per una pubblica amministrazione imparziale, trasparente, efficiente. Per segnalare inefficienze e ritardi dell'amministrazione regionale su sanità, servizi sociali, disabilità, trasporti regionali, fondi europei e comunque su tutte le materie di competenza regionale, puoi rivolgerti al difensore civico. Telefono 075 576 3215 oppure scrivendo a difensorecivico.it